Vediamo allora insieme la risoluzione del secondo punto della simulazione, che era un secondo punto ricorsivo, quindi domani e mercoledì vedremo una seconda simulazione con un database nuovo e ovviamente il secondo punto sarà una simulazione. Allora iniziamo a leggere le specifiche, un utente possiede un vecchio lettore mp3 su cui è interessato, se qua manca una parola direi, a caricare il maggior numero possibile di canzoni scaricate da iTunes ovviamente. Questo lettore mp3 però ha dei vincoli, il primo è che ha una capacità di memoria limitata e soprattutto non è in grado di riprodurre file di formato diverso, quindi può riprodurre o solo mp3 o solo vma o solo un formato per volta. L'utente ha una canzone preferita che andrà a selezionare da un menu a tendina che vuole sicuramente caricare sul lettore mp3. Quindi per aiutare l'utente a crearsi una lista di canzoni da scaricare e poter caricare sul mp3, il nostro programma deve permettere all'utente di selezionare la canzone preferita tra quelle presenti nel grafo tramite una tendina. Quindi qui andiamo a riempire la seconda tendina che va riempita solo dopo aver creato il grafo, quindi creo il grafo, riempio la seconda tendina. L'utente può anche inserire una capacità di memoria massima m, che è quella dell'mp3, espressa in numero di bytes. E alla pressione del bottone crea lista vogliamo tramite un algoritmo ricorsivo trovare l'insieme più numeroso di canzoni che si possano mettere sull'mp3. Quindi questo insieme deve avere queste tre caratteristiche, oltre a essere il più numeroso possibile. Deve contenere ovviamente la canzone preferita C, deve includere solamente canzoni che abbiano lo stesso formato di C, per la limitazione dell'mp3 che abbiamo detto prima. Che cosa vuol dire questo? Beh, come abbiamo detto prima, per come è formato il nostro grafo, canzoni che abbiano lo stesso formato di C vuol dire canzoni nella stessa componente connessa in cui è presente C. E quindi infatti il testo ci chiede canzoni che appartengono alla stessa componente connessa di C. E poi questa lista deve avere una dimensione totale, definita come la somma di bytes di ogni singola canzone, minore, non superiore, minore o uguale alla capacità massima di memoria M. Andiamo a vedere che per ogni canzone c'è l'informazione bytes, la colonna bytes, che è un intero, che ci definisce il numero di byte di quella canzone lì. Molto simile a un esercizio che abbiamo visto all'inizio del corso, quantomeno della parte ricorsiva, che è? Dicevo, questo esercizio, questo punto 2, è molto simile a un esercizio ricorsivo che abbiamo fatto all'inizio della parte ricorsiva. Vi ricordate quale? Voti Nobel, ok? Allora Andiamo a provare a risolverlo Nel nostro modello Cerchiamo di impostare la ricorsione Dunque, di cosa abbiamo bisogno? È un problema di ottimizzazione, direi, dobbiamo trovare l'insieme di canzoni più numerose. Essendo un problema di ottimizzazione, come attributo della classe modello, mi definisco una struttura dati per tenere traccia della soluzione migliore. Private, la soluzione è un insieme di canzoni, allora direi una lista, un set, una lista, fa lo stesso, di canzoni. Dico lista o set fa lo stesso perché nella soluzione ovviamente ogni canzone apparirà per forza una sola volta. Chiamiamola soluzione, la soluzione lista migliore. Su che cosa si basa il concetto di migliore? In questo caso sulla lista più numerosa, quindi sulla sua size, direi, non abbiamo bisogno di altre variabili per modellare il peso migliore. Utilizzeremo direttamente la size della lista migliore. Ok. Il resto direi che possiamo definircelo poi nei due metodi ricorsivi che abbiamo sempre. Vabbè, posso farli direttamente qui. Allora, metodi ricorsivi, uno che imposta la ricorsione e poi invoca il metodo veramente ricorsivo. Il metodo di preparazione lo impostiamo come pubblico, public. Questo metodo direi che ritornerà la nostra soluzione migliore, che è una lista di track. Chiamiamo questo metodo cerca lista, non lo so. Riceverà sicuramente un parametro, che è, no, non solo uno direi, però. Sicuramente riceverà la canzone migliore C, che l'utente seleziona dalla lista. Quindi track C. Questa canzone dovrà essere presente nella lista migliore. Poi riceverà anche la memoria totale M del lettore MP3. Un intero, int, M. Altri parametri? Direi di no, perché il formato di C lo recuperiamo da C. E quindi da C prendiamo il suo formato e cerchiamo di aggiungere solo canzoni che abbiano appunto lo stesso formato di C. Allora, come strutturiamo questo, questo programma ricorsivo? Come l'avete fatto? Come avete qualche idea? Sicuramente la prima cosa da fare è andare a capire quali sono le canzoni su cui devo ragionare, no? Non sono tutte quelle presenti nel grafo, ma solo quelle che hanno lo stesso, lo stesso formato di C. Allora, quindi questo si risolve andando a prendere la componente connessa di C. Questo si può fare o tutte le volte nel metodo ricorsivo vero e proprio, o forse meglio farlo una volta prima nel metodo di preparazione, quindi in questo metodo qui, e poi passare al metodo ricorsivo già l'elenco di canzoni su cui fare i propri ragionamenti, senza dover tutte le volte recuperare la componente connessa. Quindi, qui possiamo sicuramente recuperare, recupero la componente connessa di C. Come faccio? Beh, ci viene, ci sono vari modi, potrei visitare il grafo, ad esempio, a partire da C, ma direi che il metodo più veloce è quello di usare un connectivity inspector, che in automatico ci restituisce la componente connessa. Quindi, mi definisco questa lista di track, chiamiamola canzoni, valide, uguale, boh, un array list, di track. E poi, questa lista la vado a riempire con le canzoni della componente connessa. Per farlo ho bisogno di un connectivity inspector, non mi ricordo assolutamente la sintassi, io non ho altri progetti da cui copiare, adesso, se me ne ricordate, se no proviamo a guardare con i suggerimenti. Sì, il grafo sicuramente. Dis.grafo, ok, basta. Sì, qua forse ci vuole il tipo. Sì, di vertici e edge. Quindi, un connectivity inspector di track, virgola, default, weighted edge. Ok, ce la siamo cavati. Ripeto, poi si può usare la documentazione, ora non avevo voglia di aprire una pagina internet, ma all'esame potete farlo, potete guardare i progetti vecchi, e quindi è molto facile poi risalire alle cose che non vi ricordate. Ovviamente, se non vi ricordate proprio niente, lì è un po' un problema, perché a quel punto non sapete neanche cosa cercare. Invece, quando si tratta di una sintassi specifica, è molto facile. A questo punto dico, canzoni valide.add all, questa lista che ho creato era vuota, al suo interno ci vado a mettere le canzoni della componente connessa. CI.connectedSetOf la componente connessa della canzone CI. Questo ci restituisce un set e costruisco una lista a partire da un set. Sì? In questo caso, si potrebbero anche fare con il graph.neighborListOv? No. No. Allora, la differenza è che il neighborListOv ci restituisce i vicini diretti di quel vertice, mentre la componente connessa include tutti i vertici raggiungibili da CI, che potrebbero anche essere raggiungibili attraverso più passaggi. questo è chiaro? Per come è costruito il grafo, mi sa che tutte le canzoni di formato uguale sono direttamente connesse, quindi in questo caso forse avrebbe funzionato lo stesso, ma solo per questo motivo. quindi secondo me è bene usare il metodo logicamente più corretto perché altrimenti se non sappiamo bene cosa stiamo facendo rischiamo di... fare una ricorsione se non è un neighborListOv non è giusto fare ok, fa... sì, il vostro compagno dice ogni volta prendersi gli adiacenti non lo... sì, potrebbe... in pratica visiti mentre fai la ricorsione, sì, potrebbe anche essere un'alternativa, sicuramente. io qui sto cercando di riportarmi un po' a quello che abbiamo visto ad esempio con voti Nobel dove avevamo un insieme di esami di partenza e poi con l'approccio più semplice prendevamo un esame per volta e provavamo ad aggiungerlo alla nostra soluzione parziale. però ovviamente non c'è un'unica soluzione. Occhio però appunto a quello che ho appena detto in questo caso il neighborListOv funzionava ma bisogna avere chiara la differenza tra le due e soprattutto chiaro come è fatto il grafo perché altrimenti andiamo incontro dei problemi. Quindi ora ho il mio insieme di canzoni valide posso impostare il mio metodo ricorsivo avrò un metodo cerca che riempirà la lista migliore a cui posso passare le canzoni valide virgola m sicuramente poi posso già impacchettarmi una soluzione parziale qui dentro list track parziale uguale new array list soluzione parziale che sicuramente andrà a contenere c no? per costruzione la soluzione migliore dovrà contenere c e quindi di conseguenza anche parziale quindi posso già dire parziale.add c questa la metto e non la toglierò mai e passo questa parziale anche al mio metodo cerca ci serve il livello? per come lo sto strutturando adesso direi di no poi vediamo se eventualmente aggiungerlo dopo sì avevo sbagliato a scrivere canzoni valide quando questo metodo cerca finirà potrò ritornare la mia lista migliore che sarà stata riempita appunto da questo metodo ricorsivo che andiamo a definirci adesso private direi void cerca riceviamo la nostra parziale list track parziale le nostre canzoni valide list track canzoni valide e la nostra memoria massima int m l'approccio più semplice è quello di dire ok ho un insieme di canzoni valide ho una soluzione parziale che parte pseudo vuota ha già c ma va bene quella c'è e una per volta dalla mia dalle mie canzoni valide provo a prenderne una la butto in parziale faccio andare avanti la ricorsione supponendo di aver messo quella canzone lì la mia ricorsione andrà avanti a un certo punto tornerò indietro togliendo quello che ho appena messo e la ricorsione continuerà di nuovo quel ramo in cui quella determinata canzone non c'è ok quindi io avrò sicuramente un ciclo for sulle mie canzoni valide track t in canzoni valide e il passo fondamentale è aggiungo in parziale t lancio la ricorsione quindi cerca di parziale canzoni valide m e poi tolgo remuti questo è il pattern base per questo approccio molto semplice ora però non aggiungo sempre ovviamente è inutile aggiungere cose che non posso aggiungere al passo ricorsivo di base c'è spesso un filtro facciamo questa ricorsione solo se sappiamo che ci porta in strade davvero utili allora la prima cosa da controllare direi che è che parziale non contenga già t altrimenti andiamo incontro a una ricorsione infinita giusto? perché questo for rinizia sempre da zero e noi aggiungiamo sempre il primo elemento quindi vado avanti con la ricorsione if not parziale punto contains t c'è un contains non si sa mai magari i prof sono stati un po' bastardi questa volta scusate la parolaccia è pure registrata va bene andiamo a controllare track avrà l'hashcode l'equals? sì abbiamo dei prof bravi però occhio perché se non ci fosse questo hashcode l'equals quella contains lì non funziona e quindi sempre controllare avere bene in mente quello che stiamo facendo ok torniamo al modello è l'unico controllo l'unico filtro che ci serve? beh ce n'è anche un altro di possibile filtro è quello sulla dimensione massima dell'MP3 è inutile aggiungere una canzone che ci fa sforare la dimensione massima no? questo controllo lo possiamo fare in svariati punti tra cui qui che forse è il punto più più utile perché ci evita di iniziare strade che tanto non sono non sono promettenti non sono valide va bene allora mettiamo una and abbiamo bisogno di un qualcosa che ci restituisca il numero di byte della soluzione parziale attuale per confrontarlo con m ok? quindi potrei avere un metodo da qualche parte privato int che ci restituisca una somma memoria data una determinata lista di track beh questo metodo è molto semplice int somma uguale a zero e poi faccio un for su tutte le canzoni e incremento questa somma quindi for track t in canzoni somma più uguale canzoni punto get non abbiamo i bytes t scusate è giusto t punto get bytes e alla fine ritorno somma quindi la ricorsione mi va bene l'aggiunta di questa canzone t mi va bene se la somma memoria di parziale più quella che dovrei eventualmente andare a mettere quindi più t punto get bytes magari mettiamo una parentesi che racchiuda questa somma qui è parziale se questa somma è minore di minore o uguale di m ok quindi costruisco solo soluzioni valide per come ho impostato l'esercizio l'approccio con questo filtro qui sono sicuro che prima o poi questo for termini che le canzoni valide terminino e questa è una prima condizione di terminazione che è implicita nel for ma c'è questo for prima o poi finisce perché non entra più niente in questa if giusto ci sono altre condizioni di terminazione se ho già messo tutte le canzoni sì ma questa è in pratica implicita in questo for perché questo for prima o poi finirà e quando finisce vuol dire che ho visto tutte le canzoni che potevo vedere quindi direi che ce la caviamo così quello che manca è il controllo della soluzione migliore dove lo faccio come 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 qui 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 volendo però mi viene in mente che potremmo anche farlo qui cioè io sì in pratica è praticamente la stessa cosa però forse dividiamo meglio i pezzi io aggiungo una canzone valida ok rilancio la ricorsione e la prima cosa che faccio è controllare se la nuova soluzione parziale è meglio di quello che abbiamo visto fino ad adesso in laboratorio ho visto qualcuno fare così if somma memoria parziale uguale uguale a m e poi controllava attenzione a differenza di voti nobe se non ricordo male dove la somma dei crediti doveva essere esattamente m qui il vincolo è meno forte qui diciamo che la somma della memoria deve essere minore o uguale di m non è detto che arriviamo esattamente a m ok e quindi facendo questo controllo ci perdiamo dei casi perché io potrei avere un vincolo di memoria 100 e la mia lista canzoni migliore potrebbe essere di 99 nessuno mi dice il contrario quindi questa if qui no per semplicità potremmo controllare sempre è vero facciamo dei controlli aggiuntivi però va bene no è una if alla fine quindi potrei dire tutte le volte che aggiungo una canzone controllo se è la mia soluzione migliore allora per un certo punto per un certo periodo della ricorsione sarà sempre una soluzione migliore perché io ogni volta ne aggiungo una e va bene farò dei controlli inutili però alla fine questa if mi restituirà quello che sto cercando ok quindi if a questo punto dobbiamo controllare la size di parziale quindi if parziale punto size è maggiore di lista migliore punto size vuol dire che siamo di fronte a una soluzione migliore cosa faccio sovrascrivo lista migliore lista migliore uguale new array list di che cosa di parziale faccio così no era una domanda retorica non esco dalla ricorsione perché appunto per come ho strutturato il mio programma io questo controllo lo faccio ogni volta no devo continuare ad andare avanti ok quindi io ho la mia lista parziale che è vabbè pseudo vuota no ha un elemento io ci aggiungo il primo elemento che sto guardando quindi la seconda canzone ok e richiamo cerca controllo è meglio della soluzione di prima sicuramente sì perché abbiamo due valori rispetto che uno ok me la salvo però sono all'inizio non posso fare una return e uscire devo continuare quello che mi farà finire è questa if qua che farà terminare il mio ciclo for quindi questa return in questo caso assolutamente no è fine direi se non mi perdo niente domande dubbi l'avete fatto così l'avete fatto in modo diverso c'è qualcuno che ha adottato altri approcci sì lista migliore punto size da null pointer exception sì perché non l'abbiamo creata giusto andiamo a creare direi qui prima di cerca o comunque vicino qui a quella parziale quindi lista migliore uguale new array list giusto grazie quindi sicuramente già al primo giro ok con parziale che contiene la mia c già al primo giro entrerò qua dentro altri approcci se non mi sbaglio me ne ricordo uno dal laboratorio non so se chi l'ha fatto è qui in ogni caso non metto questo controllo qua ok ma aggiungo lo stesso e il controllo della soluzione migliore lo faccio in questo modo non lo faccio sempre ma diciamo così mi fermo a controllare solo quando sforo quando sforo ovviamente quella soluzione non è valida ma tolgo l'ultimo inserito e quella ritorna ad essere minore di m minore uguale di m e controllo lì se è una soluzione migliore oppure no in questo modo forse mi evito qualche controllo soprattutto nei primi nei primi giri della ricorsione quindi mi fermo a controllare solo quando mi accorgo che ho sforato mi accorgo che ho sforato tolgo l'ultimo inserito e quella è una soluzione valida però è una possibile miglioramento che sicuramente può andare bene dimmi ma la ricorsione secondo me va bene anche nel modello perché sono due metodi abbastanza compatti e quindi possono starci anche nel modello poi non c'è una risposta giusta e sbagliata la simulazione visto che coinvolge più codice forse è bene avere una classe separata anche lì se la fate nel modello va bene uguale non è che sì ho messo l'oggetto sì giusta osservazione in questo caso funziona lo stesso perché funziona lo stesso non per quello perché per costruzione esatto di canzoni oggetti t ce n'è uno solo ok c'è questa contents qui no quindi quando rimuovo rimuovo l'unico che c'è giusto quindi funziona effettivamente non è efficiente quindi possiamo tornare al nostro solito remove ok funzionava lo stesso perché in questa lista per costruzione le canzoni ci sono una sola volta e quindi la remove rimuove l'unica l'unica che c'è quella giusta attenzione però e questo mi viene bene per dirvi questo attenzione che nei casi in cui in questa parziale ci possa essere più di una volta lo stesso oggetto qui andavo incontro a casini perché questa remove rimuoveva il primo che trovava non necessariamente l'ultimo inserito quindi quando siamo con liste a ragione del vostro compagno sempre meglio rimuovere l'ultimo inserito tramite l'accesso posizionale è anche più efficiente perché essendo un array list ok proviamo a collegare il tutto al controller e poi cerchiamo di vedere ancora un miglioramento potenziale allora nel mio controller abbiamo detto dobbiamo riempire la tendina delle canzoni questa si riempie dopo aver creato il grafo quindi direi qui allora il nostro combo box sarà questo qui combo box canzoni andrà a contenere delle track track no no era giusto devo solo importarla ah qui tanti hanno sbagliato occhio alla import anche all'esame perché c'è una classe di tipo track nel package java x punto sound punto midi occhio importiamo quella giusta che è nel package it punto polito punto ttp ok e qui dopo aver creato il grafo dico dis punto box canzone punto get items punto add all direi che ho bisogno di un metodo nel modello che mi ritorni tutti i vertici del grafo quindi dis punto model punto get vertici ok allora vado nel modello e direi sotto il crea grafo prevedo un metodo public list track get vertici e ritorno dis punto grafo punto vertex set vogliamo magari una lista e quindi mi creo al volo una nuova array list a partire dal vertex set che è un set array list volendo poi possiamo anche ordinare queste canzoni per titolo ad esempio ma per il momento lasciamo così e quindi nel mio controllore ho già tutto benissimo ho riempito la tendina vediamo solo che funzioni facciamo partire ok creo il grafo vediamo se la tendina viene riempita si viene riempita fortunatamente c'è già il to string adatto e quindi abbiamo già il titolo delle varie canzoni benissimo passiamo al bottone crea lista che è quello che invoca la ricorsione anche qui possiamo sicuramente pulire la tendina all'inizio l'area di testo scusate poi abbiamo un unico due input in realtà uno da tendina e l'altro numerico va bene partiamo con la tendina track T chiamiamola C come dice il testo uguale this punto combo canzone punto get value se questo value è nullo quindi if c uguale uguale a null errore txt result punto append text seleziona una canzone return poi abbiamo il valore di m che è un campo di testo txt memoria va bene solito pattern int m provo a convertirlo da string a numero number format exception significa errore quindi try catch number format exception e se c'è una number format exception txt result punto append text inserisci un valore numerico per la memoria ad esempio return e qui nella try catch proviamo a fare questa conversione da stringa a intero quindi dico che m è uguale a integer punto parse int txt memoria punto get text volendo visto che l'abbiamo impostato prima possiamo anche fare il controllo sul grafo che è questo qui se il grafo non è ancora stato creato non puoi cliccarmi questo bottone quindi if not this punto model punto grafo creato stampiamo questo messaggio d'errore adesso possiamo invocare il metodo e direttamente stampare le varie canzoni quindi dico che for track t in this punto model punto cercalista a cui passo la mia canzone c e il mio valore m e per ogni canzone la stampo quindi dico txt result punto append text c più slash n no t scusate e prima del for magari stampo anche txt result punto append text lista canzoni migliore due punti slash n ok proviamolo proviamo sempre con il jazz crea grafo delta massimo supponiamo è qui prendiamone una caso fotografia memoria m sì qui bisogna un po' andare a capire un numero ragionevole per la memoria dimmi ok il vostro compagno mi suggerisce che 20 milioni sono circa 5-6 canzoni proviamo 1 2 3 4 5 6 esatto 4 canzoni di cui la prima è fotografia esattamente quella che ho selezionato vedete che qui è molto veloce perché è molto veloce perché il grafo è molto piccolo col jazz avevamo 130 vertici che andiamo ancora a filtrare prendendo una sola di queste componenti connesse relative ai vari formati quindi pochissimi vertici ho l'impressione che se noi selezionassimo rock con un formato magari mp3 andremo incontro forse a problemi perché già rock ci mette un po' di più a creare il grafo e qui però bisognerebbe sì anche pulire la tendina ogni volta perché altrimenti la tendina rimane anche con le canzoni precedenti è chiaro questo? quando clicco crea grafo non devo solo andare a inserire le canzoni nella tendina ma anche a togliere quelle che avevo inserito nella interazione precedente se c'era stata quindi qui nel controller eccola qua qui dovrei andare a levare tutte le canzoni precedenti get items direi punto clear tolgo e poi rimetto le nuove canzoni sono i nuovi vertici del nuovo grafo quindi dicevo se selezionassimo rock ok con una canzone in formato mp3 che boh non so non posso saperlo adesso quale sia però forse andremo incontro a e infatti vedete ci mette un po' anzi non sono sicuro che possa che riesca a terminare perché appunto qui i numeri di vertici sono più grandi va bene quindi non è richiesto che ci sia questa ottimizzazione dal punto di vista della computazione quindi un approccio come quello che abbiamo impostato semplice va benissimo e vi dà il massimo dei voti se lo fate vediamo però visto che abbiamo ancora un po' di tempo se riusciamo a migliorare questo approccio che come per voti Nobel ha una complessità di n fattoriale quindi quando questo n diventa grande la complessità esplode e non arriva a termine vi ho già dato il suggerimento prima questo esercizio è simile a voti Nobel quindi anche l'approccio di ottimizzazione possiamo prendere spunto di là vi ricordate come facevamo a diminuire la complessità da n fattoriale a 2 alla n vai ok usando il livello quindi dobbiamo avere questa corrispondenza tra livello e posizione dell'elemento nella lista di partenza ok quindi a livello 1 ad esempio prendiamo il secondo elemento di nel nostro caso canzoni valide quindi le canzoni della componente connessa e proviamo le due strade proviamo la strada in cui questa canzone di livello 1 è presente nella soluzione e lanciamo la ricorsione poi la togliamo e proviamo la strada in cui questa canzone invece non è presente il concetto è avere questa corrispondenza tra livello e indice nelle canzoni di partenza e scorrere questa lista in ordine in modo tale da non considerare più volte lo stesso elemento questo era un po' il l'idea qual è la differenza qui però che mi viene in mente adesso la differenza è che in voti nobel noi partivamo da una parziale vuota qui la nostra parziale ha già un elemento quindi il livello 0 è già fatto è già fatto però secondo me dovremmo fare del lavoretto in più per fare che cosa vai ok ok sì questo può essere un'altra ottimizzazione che però non è tanto legata a quello che stavo cercando di dire però va bene può andare bene il vostro compagno diceva si è costruita una funzione trova minimo per provare ad aggiungere sempre la canzone più piccola ogni volta provando prima quella perché sicuramente la canzone più piccola è quella che massimizza le possibilità di avere un insieme poi più grande questo va bene ma qui il lavoretto che dobbiamo fare in più è che la nostra canzone di partenza deve corrispondere a livello 0 quindi dobbiamo costruirci una lista di canzoni valide in cui a posizione 0 ci sia la nostra C se vogliamo mantenere questa corrispondenza tra livello e canzoni possiamo provare a farlo facciamo così commento un attimo i due metodi di cerca e proviamo a farne due metodi nuovi che saranno simili ma con un approccio diverso quindi public list track cerca lista track C int M allora sicuramente le canzoni valide me le devo sempre recuperare e quindi queste righe le copio da sotto qual è il problema queste canzoni valide sono una lista della componente connessa di C quindi sicuramente conterrà anche C questa lista però non so in che posizione è questa C se voglio seguire l'approccio di associare il livello alla posizione io devo partire dal livello zero devo forzare il fatto che C sia nella prima posizione come possiamo fare potremmo definirci una ulteriore lista in cui vuota in cui andiamo ad aggiungere C e poi la concateniamo con canzoni valide meno C direi che forse è la soluzione più facile quindi queste canzoni valide chiamiamole in un altro modo chiamiamola componente connessa ok poi la mia lista di track canzoni valide me la definisco vuota ci aggiungo C in prima posizione e poi ci aggiungo la componente connessa meno C è chiaro il trucchetto che sto usando e beh come faccio posso togliere C da componente connessa attenzione qui sto usando quello che dicevo prima per costruzione nella componente connessa le canzoni ci sono una sola volta e quindi questa remove qui funziona anche se componente connessa è una lista se vogliamo forse ecco facciamo le cose più efficienti la componente connessa la salviamo in un set ok tanto i vertici sappiamo che ci sono una sola volta e addirittura appunto il connected set of è un set anzi non dobbiamo neanche fare la new perché la nostra componente connessa è semplicemente uguale a c punto connected set of giusto il set che ci modella la componente connessa da questo set rimuoviamo c adesso questa remove è istantanea perché siamo in presenza di un set e a canzoni valide che in prima posizione avrà c ci aggiungiamo la nostra componente connessa meno c quindi canzoni valide punto add all componente connessa fatto fatto questo lavoretto iniziale possiamo allora appunto implementare il nostro approccio le scorriamo in ordine le nostre canzoni valide associando il livello alla posizione all'indice dell'array della lista dell'array list allora ho di nuovo la mia parziale a cui aggiungo c e poi avrò un cerca sempre di parziale virgola le mie canzoni valide e va bene il mio vincolo su m e va bene a questo punto anche il livello livello che partirà da 1 non da 0 perché c'è già un elemento imparziale e poi ci sarà sempre la return ok adesso definiamoci il metodo cerca private questi parametri sono sempre gli stessi quindi li vado a copiare aggiungo solo il mio int l allora partiamo dal passo ricorsivo l'idea appunto è provo a aggiungere canzoni valide a posizione l faccio andare avanti la ricorsione tolgo faccio andare avanti la ricorsione provando le due strade quindi dico parziale punto add aggiungiamo a parziale canzoni valide punto get l attenzione è una get con un indice numerico una get di tipo posizionale aggiungo provo a far andare avanti quindi cerca parziale virgola canzoni valide virgola m virgola l più 1 ok se questa strada questa strada andrà avanti per i fatti suoi quando torno indietro proverò anche l'altra strada quella per cui canzoni valide di l non è presente quindi rimuovo parziale punto remove canzoni valide punto get di l anche qui funziona di nuovo per l'assunzione che le canzoni ci sono una sola volta e rilancio il cerca sempre a livello l più 1 quindi il livello l più 1 si svilupperà in due rami principali uno che include canzoni valide di l uno che non le include a questo punto la contents che avevamo prima non serve più perché noi andiamo avanti guardando una canzone per volta in ordine e quindi prima o poi arriviamo alla fine ovviamente questo prima o poi arriviamo alla fine dobbiamo codificarlo da qualche parte però non andiamo mai a riconsiderare una stessa canzone qui si però che ci servono le condizioni di terminazione che qui sotto erano implicite nel for e in questa if nell'unione delle due cose e qui no qui non abbiamo ancora niente e quindi queste condizioni di terminazione dobbiamo esplicitarle quali sono? dimmi prima controlliamo la memoria va bene ok poi se la soluzione è migliore e poi il livello quindi quali sono i casi possibili? beh il primo caso che mi viene in mente è che qua mettiamo qualcosa che ci fa sforare no? quindi se per caso if somma come si chiamava somma memoria di parziale e maggiore di m può capitare perché come vedete qua non abbiamo nessun filtro e qui niente non dobbiamo fare niente se non uscire dalla ricorsione è una strada che non ci porterà da nessuna parte return se invece siamo qui parziale e valida e valida quindi merita di essere controllata anche qui a differenza di voti nobel qui in voti nobel c'era un controllo uguale uguale a m qui no ci va bene anche soluzioni minore di m potenzialmente e quindi controllo sempre ok controllo lo copio da sotto se parziale punto size è maggiore di lista migliore punto size sovrascrivo c'è qualcos'altro da aggiungere qua c'era un ciclo for che prima o poi finiva e qua no qua possiamo andare avanti l più 1 l più 1 è vero che poi prima o poi la la memoria verrà superata però qual è il problema c'è il grosso rischio di fare un accesso posizionale a un l che è out of range cioè che sia oltre la dimensione massima dell'array list questo perché appunto non c'è più quel ciclo for che naturalmente si esauriva e quindi dobbiamo avere la condizione di terminazione anche che ci dice ok abbiamo finito le canzoni da controllare e qual è questa condizione se l è maggiore della size o uguale alla size diciamo che se mettiamo questa condizione qui ci va bene controllare l'uguaglianza e siamo nell'ultimo caso abbiamo fatto quello che dovevamo fare abbiamo controllato se la soluzione è migliore oppure no siamo nell'ultimo caso uguale a size fine quindi if l uguale uguale a canzoni valide punto size e abbiamo finito return attenzione a non mettere questo qua perché altrimenti ci perdiamo l'ultimo controllo che potenzialmente potrebbe restituirci una soluzione migliore direi che possiamo fare una prova se non abbiamo sbagliato niente dovrebbe essere già tutto impostato riproviamo con il rock non mi ricordo che canzone ho selezionato prima questa qua vero proviamo 20 milioni 1 2 3 1 2 3 no forse neanche così ce la fa neanche così probabilmente ce la fa ci metterà sicuramente di meno rispetto a prima però ci mette un po' eh no ce l'ha fatta adesso vedete siamo riusciti a portare a termine una cosa che probabilmente prima bisognerebbe fare i calcoli però sicuramente con l'approccio di prima ci avrebbe messo molto di più ok domande dubbi sì allora il vostro compagno fa una domanda a cui bisogna rispondere perché è importante questo esercizio qua come anche altri che capitano si poteva eventualmente risolvere anche senza ricorsione cosa succede se all'esame non facciamo la ricorsione ma usiamo un altro approccio e non prendete i punti perché l'obiettivo del punto 2 è proprio valutare se siete in grado di sviluppare un algoritmo ricorsivo e infatti il testo chiede esattamente per mettere utilizzare un algoritmo ricorsivo quindi è proprio una richiesta del testo quindi sì se vi chiedono una ricorsione fate la ricorsione altre domande altri dubbi allora abbiamo finito abbastanza prima ma va bene così quindi io chiudo qua la registrazione ovviamente sono qua se avete domande posso posso ancora rispondere altrimenti vi auguro una buona giornata grazie grazie